Allora ragazzi, niente da fare, niente da fare Anche al San Paolo arriva l'ennesima sconfitta di questo 2020 a dir poco imbarazzante Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che è arrivata contro un avversario Tecnicamente più forte delle altre squadre con cui hai perso quest'anno Ma è stata probabilmente la sconfitta meno pesante di quelle che hai subito Perché rispetto alle partite con Torino, Juve, Sassuolo, Udinese e compagnia bella Oggi la Roma ha giocato bene Qua adesso sicuramente arriverà il fenomeno che mi dirà Guardare statistiche, 19 tiri in Napoli, 5 tiri la Roma Sì ma non sono solo i tiri a dimostrare la qualità di una squadra in campo Conta anche la gestione palla, conta anche magari delle occasioni che non sono stati tiri verso la porta Ma sono stati potenzialmente delle occasioni da gol Per me questa è stata una partita godibile, una partita equilibrata dal primo all'ultimo minuto Con alcuni lampi di Roma e alcuni lampi appunto di Napoli Che soprattutto nel finale di gara ha mostrato di essere più in palla Ed è stata decisa secondo me da un gol di un fuoriclasse O comunque da un gol da fuoriclasse Perché se Insigne è sempre stato un po' criticato per essere Per avere quella discontinuità che hanno molti giocatori al giorno d'oggi Oggi non gli si può dire nulla Perché, scusate la ripetizione, perché è stato il migliore in campo del Napoli Lo era già prima del gol Ma poi si è inventato un qualcosa di allucinante Un gol stupendo Stupendo Qualcuno dice, eh, errore di Fazio nel passaggio Sì, quando c'è un gol subito è sempre un po' colpa di chi lo prende Ma quando fanno dei tiri così, ma che gli vuoi dire? C'è un tiro da fermo messo all'incrocio dei pali Ma come fai a dire colpa della difesa? Posso capire l'1-0 di Caye Hon Che quello secondo me è sia un bel cross di Mario Rui Ma anche una errata copertura di Bagnez sull'esterno spagnolo Che ha colpito, ha messo la palla sotto le gambe di Paolo Lopez E l'ha messa dentro Tra l'altro Paolo Lopez è tornato titolare dopo diversi mesi E non mi è dispiaciuto All'inizio c'era sempre quella solita Flemma nel passare il pallone Così ogni volta tre ore a passarla Ogni volta ci fa venire il pippaculo Se si dice così da queste parti Però poi ha fatto parate molto molto importanti Sia nel primo che nel secondo tempo Ne ricordo una su Mertens Davvero davvero difficile E quindi si può dire che anche lui ha giocato bene Ma in generale la Roma, lo ripeto Non mi è dispiaciuta Perché quantomeno questa sera Ho visto un'identità Ho visto una squadra che sapeva cosa fare con il pallone tra i piedi Ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti Ci sono sempre quelle solite insufficienze Tipo Fazio che non è entrato benissimo Però era anche difficile Un po' io l'ha buono Tipo lo stesso Bagnez che Ha personalità però Non è molto bravo diciamo nella copertura difensiva E anche qua deve migliorare E soprattutto Quel dannato cristante Allora io non voglio giudicare una partita E una sconfitta per un solo giocatore Cioè non è che tu hai perso solo per Cristante Ci mancherebbe Però guarda la casualità È entrato lui Appena è entrato lui per Pellegrini Napoli in crescita Napoli che ha spinto di più Napoli più avanti Napoli qui Napoli là Sarà merito anche loro Per carità di Dio Ma perché appena è entrato lui Che ha rallentato tutta la manovra La Roma è calata sotto tutti i punti di vista Non lo so Non lo so E lascio a voi la risposta Comunque a parte i nomi che vi ho citato Per me ci sono tanti giocatori Che hanno fatto una prestazione Sopra le aspettative Spinazzola Che ha giocato bene sulla fascia Dzeko Che si è dimostrato il leader assoluto Del reparto offensivo E su quell'ultimo pallone Ho sperato che potesse metterla dentro Purtroppo è stato un po' troppo centrale Miki Tarjan Ha fatto anche lui una bella prova Vere tu anche Paolo Lopez appunto Cioè Dispetto a Roma A Roma-Duinese In cui Ho salvato a malapena Mirante E Perez giusto per l'impegno Non Perez-Perez Oggi comunque la squadra L'ho vista ben messa in campo E Sembra la classica frase fatta Ma se avessi giocato così Nelle partite precedenti Probabilmente qualche punto in più Ce l'avresti avuto Cioè io non Non rosico per aver perso Al San Paolo È un campo difficile Il Napoli ha vinto Sei delle ultime sette gare Ci mancherebbe che non ci possa stare Una sconfitta qua Però mi dà fastidio Perché è arrivata Anche con una crescita generale Della squadra giallorossa E Rispetto a questa partita Sono molto più fiducioso Per la prossima Perché se la Roma Manterrà questo identikit Anche nella prossima sfida col Parma Probabilmente i punti potrebbero tornare Quanto meno si spera Tra l'altro Volevo fare un appunto Perché Fonseca si è inventato oggi Il 3-4-2-1 E non mi è dispiaciuto come modulo Perché a parte qualche errore difensivo Che quelli Sono la prassi Mi pare ovvio Però la squadra Ha interpretato bene il ruolo Perché Spinazzola Si è fatto tutta la fascia Con grande costanza Zappacosta un po' meno Cioè con meno grinta Però anche lui Non ha fatto una prestazione malvagia E i due davanti Comunque se la sono cavata Miki Italian ha fatto Una grandissima prestazione A parer mio E Clivert Nonostante nel primo tempo Rimasto parecchio in bambola Nel secondo Ha avuto il merito Di spostare E mano l'ass Sull'azione del gol Dell'1-1 E permettere a Miki Italian Appunto di farsi tutto il campo Palla al piede E mettere la palla All'angolino Quindi sotto questo punto di vista Anche Clivert Non mi è dispiaciuto Particolarmente Quindi ecco Diciamo che questo modulo Ci sta Ma spero Nelle prossime partite Che venga confermato Con giusto Qualche cambiamento Perché Fonseca Qualche giorno fa O addirittura ieri Ha detto Che ha dovuto fare dei cambi Per permettere ai giocatori Di rimanere forti dal punto di vista fisico Forti per un modo di dir Comunque L'ha detto per farli girare E per fargli fare più partite In poco tempo Però al tempo stesso Cambiare troppo Anche con il discorso fisico È sbagliato Perché la squadra Deve avere una propria identità di base Lo stesso Napoli Ha fatto le nostre partite Però i giocatori Più o meno Mette sempre quelli Con qualche cambiamento Ma ci sono quelli Noi abbiamo cambiato Sei undicesimi ogni volta E non è mai facile Mantenere un'identità Se ogni volta Cambi quasi tutta la squadra Quindi io vi dico La sincera verità Questa formazione Non mi è dispiaciuta Poi bisognerà certo Modificarla In base all'avversario Che ti trovi davanti Però col Parma La riconfermerei In toto Con qualche cambio Che si può fare Tipo magari Metti un Der Al posto di Klaivert Metti Che ne so Kolarov Al posto di Spinazzola E Spinazzola Lo rimetti a destra Metti Diavara Non lo so Qualche cambio Lo puoi fare Ma non stravolgere La squadra Perché se la stravolgi Lo ripeto L'identità Non si troverà mai E ora come ora L'identità diventa Un obiettivo principale Per quantomeno Darsi continuità Dal punto di vista Dei risultati E quindi ecco A parte questo È tornato Zaniolo È tornato Zaniolo Dopo 175 giorni Più o meno Dall'infortunio Con la Juve Rientro anche Abbastanza Veloce Se così possiamo dire E vi giuro Uno Non mi aspettavo Che entrasse Cioè ho detto Nei commenti Del video di oggi Che per me Sarebbe rimasto In panchina E sarebbe stato giusto Come un assaggio Di campo A livello proprio Di panchina Nel senso Stai lì Vedi il San Paolo Vedi i giocatori E tutti Invece è entrato Nel secondo tempo E non ha fatto Niente Non che mi aspettassi Che facesse qualcosa Ci mancherebbe Torni dopo Quattro mesi di stop Anzi Ha fatto anche più Di quanto mi aspettassi Però Non lo so Forse Nella situazione attuale Avrei preferito Mettere un Undair Però Fonseca ha detto Che un Undair Non è in forma E mi fido Delle sue parole Se in quel momento Ha preferito mettere Zaniolo Un motivo c'è E vi dico la verità Per me Un modulo 3-4-2-1 Fatto come Stasera Favorisce Sia Mkhitaryan Perché ha più campo Per giocare E è abile Sia come esterno Che come trequattista Favorisce Zaniolo Che è anche Sia un esterno Che anche un trequattista Anche lui Scusate la ripetizione E quindi Sarebbe il modulo Che favorirebbe Maggiormente Loro due Al tempo stesso Sfavorirebbe Quei giocatori Che si fanno Tutta la fascia Su e giù Tipo Klyvert Che non sono molto bravi Dal punto di vista Del posizionamento in campo Ma quando c'è da correre Corrono E diciamo che Questa sera Il più sacrificato Di questo modulo È stato Indubbiamente Lui Ma ci sta Non trovare un modulo Che favorisca Le caratteristiche Di 26 giocatori Tutti in una È veramente Molto molto Complicato Comunque ragazzi Allora Che vi devo dire Terza sconfitta consecutiva Rimaniamo a 48 Ci raggiunge il Napoli Il Milan va a meno 2 Non mi vorrei sbagliare E adesso La classifica si fa dura Quanto meno Ci siamo tolti di mezzo Tra molte fila di virgolette Le sfide con Napoli e Milan Si spera che Di qui in avanti Visto che Di big match C'è rimasto L'Inter E la Juve Delle squadre in alto Cima L'Inter e Juve All'ultima Che potrebbe essere Anche inutile Fini della classifica Mi aspetto Quanto meno Un rialzo Dal punto di vista Del gioco Oggi la squadra Mi è piaciuta Oggi la squadra Si è vista Non si deve sfaldare Devono capire Che oggi Come nelle prossime partite Si può giocare a calcio Che la squadra Non è quella Che si è vista Con l'Udinese Perché quella È stato uno spettacolo Aberrante A parer mio Che se appunto Capisce bene Le direttive del mister Può proporre calcio Questa sera per me Pur non avendo fatto Una partita eccezionale Che tu dici Ma calcio spettacolo Calcio champagne Vittoria rubata Del Napoli No No Assolutamente Ci sono partite Proprio effettivamente Che si decidono Con le giocate Del singolo Come è successo Questa sera Ma a parte questo Io spero che la Roma Capisca che come È giocato bene oggi Puoi Se ti va Se ti va Se ti ci metti Un impegno Con sta zucca Puoi giocare bene Anche col Parma Anche con la Fiorentina Anche con squadre Tecnicamente Meno forti Dello stesso Napoli Spero che prima o poi Se lo mettano in testa Comunque ragazzi Chiudo qui il video Perché se no Con la connessione che ho Lo caricherà nel 2000 mai Già lo so come andare a finire Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Un saluto da me Dalla mia mascotte Doodles Che solo quelli che seguono Le mie live su Twitch Possono conoscere Mi raccomando Cominciate a seguirle Perché le farò In maniera sempre più costante Ci vediamo presto Per il video Della live Ricaricata sul mio secondo canale Il gradatore su Twitch E le pagelle del gradatore Che dovrebbero uscire Se non ci sono problemi Domani pomeriggio Alle ore 6 Buonanotte a tutti ragazzi Se le sconfitte Con Udinese e Milan Mi avevano messo L'amaro in bocca Questa sera Se non altro Posso dire di aver visto Una buona squadra Che è stata purtroppo Punita Da una giocata Di un gran giocatore Ciao ragazzi Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti